Coronavirus, 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 l'emergenza coronavirus è una cosa molto seria in tutta Italia, tutta Italia, resta a casa, resta, resta a casa, tutta Italia, resta a casa, 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 evita contatti ravvicinati e mantieni le distanze di almeno un metro, evita contatti ravvicinati e mantieni le distanze di almeno un metro, l'emergenza coronavirus è una cosa molto seria in tutta Italia, tutta Italia, resta a casa, resta, resta a casa, tutta Italia, resta a casa, 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 resta, 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 Evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza di almeno un metro. Coroartirus 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 Grazie.